Grazie a tutti Come gli alberi che hanno radici nascoste E le rocce che quando vengono capovolte Rivelano una superficie infangata piena di larve e di insetti Così è la grande storia di Jack e della sua epica battaglia per salvare Heaven City Ogni figlio di questa terra conosce bene questa vicenda Ma molti di essi hanno ascoltato solo metà del racconto Per quanto grande Jack fosse non avrebbe mai avuto successo Senza la sua fedele e misconosciuta spalla Dexter Nel corso della mia esperienza di saggio E credetemi è stata un'esperienza molto lunga Ho imparato una grande verità Dietro ogni grande eroe C'è sempre un fessacchiotto sarcastico e petulante Questa è la sua storia Non posso farlo più È troppo pericoloso Ma... ma... per favore Non vuoi bollare adesso? È come se posso Trovati un altro pazzo Lascia perdere il topo Il varone vuole lui Trovai quello Jack e ti salverò prima che te ne accorga Che è successo? Dov'è andato? Cosa? Dov'è andato chi? Col piccolo folle Cosa ho ragione Devo riprenderlo E io ero lì Faccia a faccia con... Cinque... Ehm... Cinquanta cinque Di quei terribili Larker Solo contro tutti A un tratto mi attaccano da sinistra Io mi sposto a destra Mollo un pugno Un calcio Ehi, tornate qui Non ho ancora finito Allora, mi sono buttato per terra Per confondere quei manigoldi E quindi io... Puoi parlare più forte? Non ci sento più come una volta Coraggio, raccontami di come riesci a stendere Tutte quelle guardie Con un colpo solo Come riesco a... Ah, sì, certo Nessuna guardia può rimanere in piedi Dopo aver assaggiato la mia castagna Bravo Per me è un grandissimo onore conoscerti Io mi chiamo Osmo E sono il proprietario e tecnico capo Della premiata di Trasterminio Parassiti Molto bene Andrò subito al sodo, filmuolo Io ho bisogno di uno come te Qualcuno che abbia spirito di iniziativa Eccomi qua Qualcuno che abbia una gran forza Io ce l'ho Che abbia mille risorse Sì, ci siamo E il coraggio di battersi senza temere la morte Cosa? Ok, levati di torno, amico Devi avermi preso per la persona sbagliata Eh, dai Questa è un'offerta di lavoro in piena regola Posso pagarti molto bene Puoi scordartelo? Non so niente gli stermini E se proprio vuoi saperlo Orrore degli insetti Però... Se la paga è buona Che cosa? Hai detto che accetti? Oh, splendido Ci vediamo domani nella mia sete Benvenuto a bordo Faremo grandi cose Perchare? Oh! Oh! Allora! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per tutto quello che ha più di due zampe inizia il terrore. Perché è arrivato il dexterminatore. Questo è lo spirito giusto. Sei pronto per la prima prova? Passami lo spray schificida e mettiti tranquillo. Ormai quegli insetti vomitosi hanno i minuti contati. No, no, no. Devi prima imparare le basi. Oggigiorno gli insetti si sterminano con stile ed eleganza. E per questo... C'è un'arma raffinata. Ora, come primo lavoro, voglio che tu elimini tutti gli insetti dall'albergo della nostra città. Su, coraggio, vai! Sì? 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 Il tuo primo lavoro è al West Side Hotel. Trova il concierge e lui ti mostrerà le corte. Oh, Dexter, mi ero quasi dimenticato di dirti del meccanismo di comunicazione. Questo è il modo in cui ci terremo in contatto ogni volta che sarai lontano. Se c'è una cosa che ho imparato è che le sfere Precursor non sono mai troppe. Un kit energetico? Non te lo saresti mai immaginato. Dexter, quella gemma dorata viene prodotta da quegli insetti. Raccogline il maggior numero possibile. È così che vengo pagato. Quello è l'hotel, Dexter. Entra e vai a parlare con il concierge. E ricorda, il tuo lavoro è di storminare gli insetti. Wow! Facciamo pulizia qua dentro! Così tu devi essere lo sterminatore. Mr. Crew, il nostro miglior cliente, sarà felice di vederti. Ma non mi piace il tuo aspetto. Gli insetti hanno mangiato vivo l'ultimo sterminatore. Comunque mi piacerebbe farti usare l'ascensore, ma ho perso le chiavi. Dai un'occhiata in giro, ok? Dai un'occhiata in giro. Comunque mi piacerebbe farti usare l'ascensore. Ora portami un po' di queste gemme insetto dorate e dirò ad Osmo che sei stato migliore del ragazzo che aveva mandato l'altra volta. Potrei essermi dimenticato di bagnare le piante, mi dispiace. Questa è un'occhiata in giro. Questa è un'occhiata in giro. Questa è un'occhiata in giro. Essere un ozzel può essere utile dopotutto Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti